giornata dell'acqua fra sostenibilità e rischio siccità alla scoperta del depuratore di borgeria musei civici nuovo allestimento a palazzo ciacchi emergenza casa pesaro 16 alloggi popolari in pieno centro 60 anni di amnesty international in mostra al liceo mamiani una buona serata cari amici e amiche di rossini tv per questa nuova edizione delle rossini news telegiornale di mercoledì 22 di marzo che apriamo con il significato di questa data che celebra la giornata mondiale dell'acqua una tematica che affronteremo oggi con diversi approfondimenti a cominciare da un'inaugurazione all'insegna della sostenibilità avvenuta oggi a gabice mare 22 marzo 2023 si celebra oggi la giornata mondiale dell'acqua un bene prezioso un bene che significa vita un bene primario troppo spesso dato per scontato ma che non lo dà per scontato affatto marche multiservizi e il comune di gabice che oggi hanno deciso di inaugurare in questa data simbolica la seconda casetta dell'acqua del territorio comunale ce ne sono decine in tutto il territorio provinciale gestito da marche multiservizi casetta dell'acqua che offre acqua potabile microfiltrata che viene prelevata dall'acquedotto gestito da marche multiservizi ed eroga acqua a 5 centesimi al litro assolutamente di alta qualità la giornata di sensibilizzazione e quindi è l'occasione giusta per ribadire alcuni concetti intanto ecco l'acqua dell'acquedotto che una acqua buona pulita controllata da oltre 160 analisi che marche multiservizi fa continuamente su tutti i punti di prelievo quindi siamo contenti che ci siano la scuola ci siano i cittadini quelli più giovani quelli più sensibili e anche più permeabili a questi concetti a questi a questi temi sulla sostenibilità ambientale saranno i cittadini del futuro e quindi siamo contenti che anche della partecipazione della scuola non è la prima casetta dell'acqua che inauguriamo ce ne sono tante nel territorio e quindi come azienda cercheremo sempre di collaborare con le amministrazioni con lato per questo tipo di iniziative per tante altre che ci consentono come dicevo di fare tenere alta l'attenzione su quello che è il valore di questa risorsa molto preziosa ormai anche per noi il lavoro è facilitato da quello che succede a livello nazionale perché ormai su tutti i giornali è una delle notizie principali questa della siccità e dell'utilizzo virtuoso dell'acqua questa casetta dell'acqua di gabice mare è stata inaugurata in viale della vittoria si abbina a quella già presente nel territorio di case badioli una casetta dell'acqua che ha molteplici significati non solo per il valore e la qualità dell'acqua potabile ma più in generale dell'ecosostenibilità come ad esempio l'emissione di plastica che viene ridotta drasticamente utilizzando queste casette rifornendosi di acqua in bottiglie di vetro bottiglie e borracce che sono state donate oggi agli alunni della scuola media lanfranco che hanno partecipato al taglio del nastro con la crisi idrica che c'è già un segnale riuscirà a ottimizzare l'utilizzo ponderato dell'acqua e poi c'è il discorso di sostenibilità ambientale ci troviamo all'interno di quest'area ecologica perché da un lato c'è la casetta dell'acqua qui alle nostre spalle c'è anche le colonine di ricarico quindi sono dei servizi che vanno verso quello che è l'obiettivo della sostenibilità ambientale della riduzione dell'inquinamento perché se pensiamo alla casetta dell'acqua al di là della possibilità di dare alle cittadini e non solo la possibilità di utilizzare l'acqua del nostro acquedotto naturalmente trattata e microfiltrata ci sarà una sensibile riduzione di utilizzo di plastica ma anche della stessa plastica che viene poi trasportata quindi con una riduzione dell'emissione di CO2 quindi sono tutte piccole azioni che però poi sommate possono veramente fare la differenza non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e mondiale quindi sono azioni che poi vanno anche a inserirsi nell'ambito della bandiera blu che a Vicemare si contraddistingue per il numero elevato di bandiere blu dove c'è anche il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, dell'utilizzo dell'acqua della riduzione dell'utilizzo delle plastiche eccetera quindi sono tutte azioni che hanno come finalità quella di curare e preservare l'ambiente Dalla sostenibilità dell'acqua che sgorga dal nostro acquedotto passiamo ora ai rischi connessi al cambiamento climatico a cominciare dal ripetersi di lunghi periodi di siccità Ascoltiamo l'analisi dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tibiroli Il cambiamento climatico ormai produce tutti i suoi effetti lo vediamo tutti i giorni sia con le bombe d'acqua, le alluvioni sia con la siccità quindi è ora che l'uomo cominci veramente a prendere delle decisioni e a fare delle azioni in modo tale che si possa mitigare sia il tema delle alluvioni sia il tema delle siccità Oggi se guardiamo per esempio la nostra provincia i tecnici ci dicono che la piosità non è calata rispetto a quello che è il trend del medio-lungo periodo Nella nostra provincia cade qualcosa come un miliardo e mezzo di metri cubi l'anno e quindi credo che sia importante cercare di trattenerla quella che ci serve per la vita dell'uomo perché vorrei ricordare che l'acqua è vita senza acqua non c'è sistema produttivo, non c'è agricoltura ma soprattutto non si vive quindi credo che siccome le soluzioni che dobbiamo adottare sono di lungo, medio-lungo periodo e richiedono investimenti importanti ma anche tempo importante credo che bisogna veramente assumere le decisioni il più rapidamente possibile Oggi per questo 22 di marzo ci troviamo al depuratore che è una delle tante maniere che valorizzano questo bene quello del trattamento delle acque, della loro depurazione una delle tante azioni che intraprendete Certamente, oggi siamo qua al depuratore perché è la fase finale del ciclo idrico integrato cioè che parte con l'approvisionamento, la distribuzione e poi la raccolta delle fognature e la depurazione E' altrettanto significativo il fatto che siamo qua perché questo è un nuovo potabilizzatore l'abbiamo inaugurato l'anno scorso, anche se era di lunga data comunque l'abbiamo rinnovato totalmente, potenziato con le nuove tecnologie, le migliori tecnologie del momento e quindi siamo in grado di poter dire che oggi la città di Pesaro ha una depurazione che equivale al 97-98% di tutto il 100% quindi credo che sia un tema importante anche perché è doveroso, come diceva lei il fatto che si possa rilassare, si debba rilassare l'acqua al fiume e quindi anche al mare nelle migliori condizioni e questo impianto credo che sia la dimostrazione è stato un investimento importante perché comunque abbiamo investito nella città di Pesaro e su questo depuratore oltre 25 milioni di euro però i risultati credo che si vedano e se uno vede e fotografa l'acqua di rilassio che va al fiume e poi va al mare ovviamente se ne rende conto diciamo che un tema rispetto che è collegato anche alla società si parla molto di riuso dell'acqua di depurazione per uso agricolo ad altri usi industriali purtroppo diciamo che il collocamento di questo depuratore che è il più grosso che abbiamo non consente delle grandi possibilità perché comunque siamo già vicino alla costa, vicino al mare quindi non abbiamo zone agricole da poter utilizzare in questa direzione anche se è un tema che sicuramente è all'ordine del giorno anche degli studi, delle ricerche L'intervista che avete ascoltato è stata girata al depuratore di Borgeria un impianto fondamentale per dare una seconda vita alle acque delle nostre case e delle nostre fabbriche in questa giornata dell'acqua andremo a scoprire tutte le fasi di questo impianto fondamentale del nostro territorio attraverso un approfondimento che trasmetteremo subito al termine del nostro Tg alle ore 20 e 10 e proprio diverse abitazioni in strada Borgeria non lontano dall'omonimo depuratore questa notte hanno ricevuto la visita di ladri che hanno razziato diverse cantine indagano ora i carabinieri Passiamo dall'acqua ad un altro tema di sensibilizzazione e a una quotidianità più sostenibile alle 8 di questa mattina un fiume di 300 bambini ha colorato Villa San Martino in occasione dell'iniziativa Tutti a scuola a piedi a cui il comune ha partecipato insieme agli alunni della primaria Don Bosco e dell'infanzia La Grande Quercia per celebrare la settimana della primavera e trasmettere ai più piccoli le sane abitudini della rinuncia ai mezzi di trasporto che possano contrastare l'inquinamento E continua l'avvicinamento a Pesaro 2024 all'insegna della riqualificazione di alcuni luoghi simbolo della città Parte da domani un nuovo allestimento dei musei civici a Palazzo Ciacchi sede di Confindustria allestimento che oggi abbiamo potuto apprezzare in anteprima con le nostre telecamere Tra poco più di nove mesi Pesaro sarà capitale italiana della cultura e in questa rincorsa verso il 2024 la città di Rossini vuole farsi trovare pronta all'appuntamento attraverso un costante rinnovamento dei luoghi simbolo Dopo il centro arti visive pescheria da domani giovedì 23 marzo sarà aperto al pubblico il nuovo percorso museale della sede di Confindustria Pesaro e Urbino 62 opere non esposte ai musei civici aggiorneranno l'allestimento di Palazzo Ciacchi di cui una ventina sono state restaurate per l'occasione Di queste opere 20 sono dipinti realizzati a cavallo tra 600 e 800 da autori marchigiani e napoletani 26 sono ceramiche tra cui maioliche di produzione pesarese e 16 manufatti di arte decorativa tra sculture in bronzo, marmo e specchieri in legno Il rinnovo di questa convenzione, di questa collaborazione tra pubblico e privato la prima era del 2008 adesso ha opere completamente rinnovate in parte Confindustria abbiamo fatto il restauro abbiamo predisposto la sede con una forma nuova, un format diverso e quindi oggi lo inauguriamo siamo tutti molto orgogliosi sarà aperto al pubblico questo quindi permetterà anche al nostro palazzo che io credo che sia una delle sedi del territoriale di Confindustria più bella d'Italia si inserirà nel contesto di Pesaro 2024 e in più anche il FAI quest'anno ha deciso di aprire le giornate di primavera con la visita al nostro palazzo sono opere completamente rinnovate sono opere dei depositi dei musei che non potrebbero essere esposte nel museo perché è già pieno e quindi abbiamo dato i nostri locali ci sono opere importantissime di ceramica ci sono dipinti fra il 600 e il 700 e ci sono anche tanti specchi quest'anno nella nuova versione diventano un ulteriore ampliamento del percorso museale non è solo quantitativo ma è anche un sforzo maggiore che Confindustria mette in campo rispetto alle aperture quindi si passa dall'apertura mensile degli anni scorsi pre-covid per capirci ai due giovedì del mese il secondo e il quarto giovedì del mese e anche la stradomenica che è normalmente un po' l'esplosione della cultura dei musei cittadini consideriamo che sarà una grande opportunità per tutti i pesaresi e anche per i pesaresi temporanei che verranno a visitare la città, il territorio per la capitale 24 poter offrire un gioiello come questo sia architettonico ma anche di contenuto dopo pescheria e Palazzo Ciacchi a giorni sarà presentata anche la rinnovata Sala della Repubblica del Teatro Rossini come luogo dello spettacolo dal vivo, danza, lettura e musica parliamo ora di emergenza abitativa dopo anni si sblocca il processo di conversione dell'ex oratorio delle zoccolette in case popolari lo comunica il consigliere regionale Nicola Baiocchi che si è interessato alla procedura dell'edificio storico di Via della Vetraria in degrado da decenni è stato finalmente realizzato il progetto esecutivo sull'immobile che fu acquistato dall'Erap per realizzare 16 alloggi popolari Baiocchi comunica che entro fine mese sarà presentato il piano di recupero ed è previsto per ottobre il termine ultimo per l'affidamento dei lavori e restando in tema di edilizia residenziale a Pozzo Alto il comune di Pesaro ha terminato i lavori delle opere di urbanizzazione delle cosiddette vigne rosse che i residenti del quartiere Otto aspettavano da ormai 10 anni ascoltiamo a tal proposito l'assessore Mila Dalladora siamo qua, abbiamo completato la prima parte dei lavori di urbanizzazione qui del lotto di vigne rosse è una situazione che stava andando avanti da diversi anni l'amministrazione comunale si è sostituita alla ditta che ha fallito che ha realizzato i primi 24 alloggi qua ma mancavano le opere di urbanizzazione primaria l'amministrazione è riuscita a escuotere parte della fiduzione sostituendosi alla ditta così i cittadini insomma vivono in un contesto diverso rispetto a quello che era prima quindi sono stati realizzati dei parcheggi, delle strade è stato reso anche un giardino vivibile i prossimi mesi verranno realizzati anche i giochi per i bambini e quindi sarà un contesto, verrà fatta anche l'illuminazione sarà un contesto ben diverso rispetto a quello che da anni i residenti vedevano e vivevano domani giovedì 23 marzo alle ore 11 il poeta pesarese Carlo Pagnini riceverà il sigillo d'Ateneo dal rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini il conferimento si svolgerà presso il salone metaurense del Palazzo Ducale di Pesaro in Piazza del Popolo dopo che Pagnini, autore, attore e testimone di saperi popolari terrà la sua lezione magistralis dal titolo trovare le parole, segni e suoni per raccontare le emozioni nel Tg di domani sera vi mostreremo un estratto dello speciale che realizzeremo e che andrà in onda integralmente mercoledì 29 marzo alle ore 21 e 20 il Consiglio regionale delle Marche rende omaggio a Carlo Bo intellettuale, docente, senatore della Repubblica figura fra le più illustri del Novecento la cui opera ha contribuito alla crescita culturale e accademica della comunità marchigiana venerdì 24 marzo alle ore 11 si svolgerà a Palazzo delle Marche la cerimonia per intitolare il secondo piano della sede dell'Assemblea legislativa proprio a Carlo Bo introduzione affidata al presidente del Consiglio regionale Dino Latini e interverrà il rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini Sabato 25 marzo alle ore 15 presso l'hotel Alexander di Pesaro sarà presentato il progetto Terapeia, professionisti della salute e del benessere integrativo Per l'occasione verrà illustrato il progetto e inaugurata l'apertura della sede del gruppo Terapeia che ha l'obiettivo di promuovere la qualità della vita, salute e trattamento delle persone soggette a terapia lungo termine un lavoro fatto sul paziente affinché sfrutti al meglio il suo tempo per raggiungere il risultato che desidera Si chiama 60 volti per 60 anni la mostra dedicata ad Amnesty International ospitata al Liceo Mammiani di Pesaro La storia dei diritti umani attraverso volti di persone che Amnesty International ha contribuito a salvare dalle carceri di tutto il mondo 60 volti per 60 anni, questo il nome della mostra ideata dall'artista e attivista Gianluca Costantini che da questa settimana è possibile ammirare nell'atrio del Liceo Mammiani nella sede dell'ex Morselli in via 11 febbraio Una sensazione bellissima perché testimonia tante cose, testimonia il significato della scuola testimonia l'impegno delle professoresse che si sono veramente date testimonia la collaborazione fra istituti perché l'allestimento è di un altro istituto testimonia il fatto che siamo nel centro della città e quindi è facile vedere questa mostra anche semplicemente affacciandosi testimonia il fatto che queste 60 persone sono ancora vive o sono morte di morte naturale anche se hanno dedicato la vita a difendere i diritti umani testimonia il fatto che è bello che dopo 60 anni Amnesty sia così viva e vivace che ci sia un gruppo di attivisti qua a Pesano che le persone esprimano la loro difesa dei diritti umani in tante modalità Gianluca Costantini lo fa ad esempio col disegno queste persone lo fanno con la loro quotidiana vita quindi testimonia il fatto che siamo tutti parte di un'unica umanità e dobbiamo tutti impegnarci gli uni per gli altri Il nostro rapporto con Amnesty come scuola cioè come diceva Miani è un rapporto decennale ed è un rapporto decennale costruito sulla base diciamo dell'idea che noi facciamo sempre lavorare i ragazzi su percorsi di diritti umani della difesa dei diritti umani questo a prescindere da quando è entrata in vigore la legge sull'educazione civica sull'insegnamento dell'educazione civica che nella nostra scuola si è sempre comunque fatto e abbiamo avuto questo incontro molto fortunato con il disegnatore, l'artista e attivista come viene meglio definito Costantini il quale ha realizzato a suo tempo la famosa sagoma di Patrick Zacchi e che da sempre in realtà si ha dedicato la sua penna e il suo disegno a promuovere i diritti umani e soprattutto a proporre all'attenzione dell'opinione pubblica situazioni in cui questi diritti umani vengono in qualche modo affesi, lesi, tant'è vero che adesso abbiamo anche la campagna sull'Iran e sulla libertà di espressione femminile delle donne Amnesty Italia voleva in qualche modo festeggiare i 60 anni da quando è stato fondato e abbiamo pensato di realizzare questi 60 ritratti, uno per ogni anno, partono dal 61, dal fondatore di Amnesty e di tutte storie che sono finite bene, quindi di persone che sono state liberate di persone che hanno vinto dei premi, che hanno aiutato a cambiare, a giustare il nostro mondo quindi sono persone di un po' di tutto il mondo che hanno soprattutto contribuito alla libertà nel proprio paese E questa era l'ultima notizia di questa edizione del Rossini News prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti di serata infatti questa sera alle ore 20 e 10 trasmetteremo un approfondimento a cura di Marche Multiservizi dedicato alla giornata mondiale dell'acqua dove sarà un approfondimento alla scoperta del depuratore di burgheria E poi a seguire alle ore 21 e 20 ci sarà la presentazione del libro di Julian Sozio La solitudine del mare Vi ricordo l'appuntamento anche per domani mattina alle ore 7 e 20 in diretta come tutte le mattine dal lunedì al sabato con Buongiorno Rossini, la rassegna stampa della provincia di Pesaro Urbino E poi vi ricordo l'appuntamento anche per domani sera, giovedì 23 marzo con insieme a Canestro alle ore 21 e 20 una super puntata con un ospite d'eccezione come Austin Day l'ultimo grande ritorno in maglia bianco-rossa del giocatore americano che sarà affiancato da Giovanni Bruscia, responsabile web e media puntata che potrete seguire in diretta alle ore 21 e 20 sia sul canale 80 di Rossini TV ma anche sulla pagina Facebook e potete commentare al numero che vedete in sovraimpressione Whatsapp oppure sulla stessa pagina Facebook di Rossini TV Ed è tutto e quindi vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti